Abbiamo una villa nel bosco che non è stato facile raggiungere per la difficoltà di superare il groviglio di Rovi che cerca di inghiottire la casa. Poche immagini, nessuna storia da raccontare. Un ritratto di donna, un poltrone davanti al camino, una stufa. Libri e riviste, tende cadenti che si ripresentano in ogni stanza ma con colori diversi e direi che questa è l'unica caratteristica di questa villa. Stanze vuote, La villa non offre nient'altro. Ce ne andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.